Sì, grazie Presidente per consegnare il voto contrario del gruppo capitolino del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento, un provvedimento che avevamo esaminato anche in Commissione qualche tempo fa e che appunto è superato dalla proposta di Piano Colonnine che è già passata da diverso tempo in giunta, che sta concludendo il vaglio nei municipi e che quindi penso verosimilmente, sicuramente discuteremo qui in Aula anche prima della pausa se mai ci sarà natalizia, quindi approvare adesso il regolamento transitorio per veramente una questione di giorni penso comporterebbe più confusione che altro, quindi ringrazio sicuramente il Consigliere Corsetti per lo spirito di collaborazione che ha portato su questo tema, ma appunto ci vediamo costretti a dare voto negativo nell'attesa di discutere il piano più recente che ha elaborato l'assessorato anche con il supporto di Roma Servizi del Dipartimento che recepisce anche le ultime linee guida da parte degli enti superiori e che quindi sarà sicuramente attuale e molto funzionale per la nostra città. Quindi trattandosi veramente di una questione di giorni, oggi noi daremmo voto contrario. Grazie. Grazie.